Da un lato le 13 bandiere blu che anche per questa stagione estiva sono garanzia di mare pulito e difesa dell'ecosistema, dall'altro il turismo che vede premiato il Cilento con un boom di turisti italiani e stranieri. La varietà dell'offerta è ampia e variegata e può contare su cultura, ambiente, sport, trekking e ovviamente enogastronomia. La dieta mediterranea scoperta oltre 60 anni fa che nasce proprio nel Cilento è oggi ancora studiata e analizzata in tutto il mondo. Il perché si viva anche oltre i 100 anni è frutto sicuramente dell'ecosistema, della genetica ma anche di sana alimentazione che parte sicuramente dall'olio, l'oro giallo che condisce non solo gli alimenti ma anche la vita di chi lo consuma. Vito Puglia, storico conoscitore dell'olio, ci racconta quanto sia forte il legame tra il territorio, il turismo e i prodotti made in Cilento. Bisogna pensare all'olio d'oliva come un prodotto che porti finalmente la giusta relatività per il lavoro che c'è dietro e che esprime tutte le migliori qualità di queste nostre varietà locali. Un olio d'oliva che ingerisce non può costare meno dell'olio che mette nella propria auto. A Sicilì, presso il centro sociale San Biagio, la tavola rotonda all'olio extravergine nella cucina del Cilento, incontro di promozione e di valorizzazione dell'extravergine. Realizzato da Olli Extra, primo progetto di filiera sia orizzontale che verticale tra olivicoltori, produttori, frantoiani e selezionatori che tende alla valorizzazione di un prodotto d'eccellenza, il focus è stato illustrato da Nicolangelo Marsicani che ai nostri microfoni ha raccontato come l'olio del Cilento sia richiestissimo addirittura in Ucraina nonostante la guerra in atto. Abbiamo avuto un ordine dall'Ucraina, cosa che per noi era impensabile, fino a che non abbiamo visto l'ordine l'abbiamo evaso perché ci hanno anche pagato, quindi anche in Ucraina in questo momento di guerra c'è una fama di prodotti di qualità. Ma come si difende e si valorizza l'oro giallo del Cilento? Ce lo spiega Maria Rina, iconica cuoca del territorio cilentano. Per me la cucina è come la famiglia, quindi metto al primo posto l'olio e lo chiamo il papà della cucina.